Presidente, ci risiamo per un altro importante giorno, quello dell'inaugurazione di altri 20 casette e anche questa volta non ha voluto perdere l'occasione di essere presente. Nei fatti abbiamo quasi completato la realtà del terremoto terramano per quanto riguarda le soluzioni abitative di emergenza. Adesso metteremo mano anche agli altri due comuni dell'Aquilano che sono in attesa e nell'arco del mese di gennaio abbiamo finito le soluzioni abitative di emergenza. Siamo arrivati al quarto piano stralcio di finanziamenti di opere pubbliche, abbiamo avuto circa 60 milioni di euro per le case popolari prevalentemente in provincia di Teramo, le risorse per sistemare la viabilità danneggiata al terremoto, le risorse per le scuole, per le strutture religiose e per le strutture anche municipali e comunali. Adesso nel 2018 cominceremo anche gli interventi rispetto ai danni lievi del patrimonio abitativo privato. Presidente, è stato cambiando argomento, ha approvato il bilancio regionale, molte persone a favore, altre contro, ad esempio CNA e queste associazioni di categoria, contenti invece gli agricoltori del Fuccelo. Insomma, come giudicare questo bilancio? Il bilancio è uno strumento che ci consente di mettere in cammino risposte, ma non è solo quello il momento nel quale troviamo soluzioni ai problemi. Continueremo a lavorare anche dando retta i suggerimenti delle organizzazioni dell'artigianato. Quindi questo vuol dire che non è tutto già ben definito, c'è modo anche di cambiare qualcosa? Beh certo, noi abbiamo adesso altri strumenti finanziari da destinare alla vita delle imprese artigiane e concorderemo con le organizzazioni cosa fare e le modalità anche più semplici. Presidente, per concludere, questa vicenda dei grandi centri commerciali del Megalò, come giudica questi nuovi insediamenti? Noi abbiamo detto forte e chiaro un no irrisolvibile perché c'è già una pericolosità idraulica che stiamo fronteggiando a fatica con interventi di mitigazione, ma il parere del Comitato Via sta lì con la sua forza di rieducazione amministrativa. I centri commerciali ci sono a sufficienza, nel rispetto dell'ordinamento noi vogliamo che tutti coltivino la responsabilità.